Ciao a tutti carini iconisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale oggi vi faccio vedere quello che ho fatto ho costruito delle lampade per la camera oscura con dei led 660 nanometri questa qui che ho in mano è a batteria e sono basate su dei magneti delle casse audio perché? perché così posso appoggiarle su materiali metallici e attaccarle senza nessun problema non ho voglia di comprare materiali, ho preso questa roba qui che avevo in casa e ho costruito questa roba qui dietro gli ho messo lo scotch anche su questa questi qui sono diciamo con il cavo con un alimentatore da 12 volt quindi vanno sì con la 220 però insomma a 12 volt chiaramente se no brucierebbe tutto gli ho messo questo scotch qui così quando lo metto su una superficie tipo la mia caldaia non me la va a rigare perché c'è lo scotch nero l'estetica lascia il tempo che trova ma non me ne frega niente questa qui è molto carina perché la puoi mettere dove vuoi e non hai problemi di collocamento perché va a batteria non ha l'interruttore basta togliere la batteria per spegnere ma tanto non è un grosso problema idem questo è senza interruttore qua ci sono 6 led per ogni circuito insomma sono due gruppi da 6 perché con i led normali infatti l'avevo messa con 4 e 4 però non andava bene perché i led normali con i bianchi hanno una tensione tra i 2,5 e i 3 volt anche 3 e 3 si arriva tranquillamente senza problemi questi qui alimentandoli fondamentalmente a 3 volt perché entrano esattamente a 12 volt da qua alimentandoli a 3 volt quindi con serie da 4 si scaldavano tantissimo facevano molta più luce però si scaldavano davvero tantissimo proprio diventava rovente la piastra per dissipare il calore del led c'è la pasta termica tra l'altro MX4 neanche roba economica che trasmette quindi il calore sulla piastra di metallo adesso questi sono accesi già da 5 minuti e sono freddi cioè minimamente tiepidi ma va benissimo e quindi va bene prima invece si scaldavano tantissimo quando erano solo 4 per serie adesso sono 6 per serie e ho scoperto appunto che questi led, io non lo sapevo questi led rossi hanno un voltaggio di esercizio di circa 2 volt, 200, 2,2, una roba del genere e quindi ne vanno 6 nella serie altrimenti si funzionano, fanno tantissima luce però tendono chiaramente a bruciarsi comunque a scaldarsi troppo questo qui è alimentato effettivamente a 2,55 volt in questo momento perché ho misurato, le batterie sono carichissime sono delle Enelup però comunque l'uscita è quella lì però non si scalda per niente anche perché lui comunque è dissipato da tutto questo pezzo di metallo dietro pesantissimo e poi comunque probabilmente non riesce a tirare tanti ampere quanti magari ne vorrebbe a questo voltaggio non ha abbastanza corrente diciamo per scaldarsi questi qui invece arrivando diciamo dalla rete elettrica comunque arrivando da un trasformatore che ha un buon amperaggio chiaramente potevano tirare quegli ampere e scaldavano tantissimo invece così non scaldano insomma questa è una spiegazione di quello che ho fatto oggi esteticamente fanno un po' schifo però non importa, non me ne frega niente vanno bene così, al massimo se mi viene lo schilibizzo gli metto una protezione su ogni led poi la vernice tutto di nero e fine della storia però insomma non è fondamentale per l'utilizzo questi qui chiaramente mi servono in camera oscura ho già fatto una lampada che avete già visto in altri video quella lì ha due led ognuno col suo interruttore uno a 660 nanometri quindi come questi e l'altro invece 740 per la carta diretta positiva invece questi sono per la carta fotografica normale fanno un bel po' di luce non è insomma da illuminare a giorno però in camera oscura vi assicuro che già uno di questi è sufficiente per vederci questi qui adesso ne hanno 12 è vero che sono con un voltaggio abbastanza basso però comunque 12 fanno una bella luce e soprattutto essendo queste due qui perlomeno con la corrente dalla rete non ci sono problemi di autonomia possono stare accese tutto il tempo che si vuole senza mai scaricarsi le batterie non che questo che non sia un problema è perché comunque questa qua ho visto che ti fa 4-5 ore con un led solo e io continuo a mettere il cedito sopra per sentire quanto è caldo ma è freddo va bene mi preoccupa sempre visto quanto si scaldavano questi comunque ha un'autonomia elevata ma non è infinita questi che invece è teoricamente infinita finché c'è corrente stanno accesi e niente tutto qui spero che vi sia piaciuto insomma questo mio ingegnarmi a fare le cose le ho fatte un po' così con materiali di recupero ovviamente i led li ho comprati però le ho comprati dalla cina costano stupidate ne ho presi 50 e sono ottimi a fare questo lavoro perché ho voluto farlo magnetico forse ve l'ho detto non mi ricordo perché il video l'ho rifatto 8 volte le ho fatte magnetico appunto per appoggiarlo a superfici varie ovviamente è ottimo anche il fatto che siano pesanti perché se lo appoggi da qualche parte non è il problema che magari sfiorandola appena appena cade no coschi non cade magari lo appoggi su un mobile lo spara la luce sul soffitto e ti illumina la stanza oppure appunto se hai come me la caldaia in metallo la appoggi lì quando magari vado al circolo fotografico che faremo qualcosa lì lì ci sono degli armadi di metallo le posso piazzare sull'armadi di metallo e sono a posto insomma sono molto versate sia per appoggiarle su un oggetto che non cade di sicuro con il passaggio con un colpo di vento visto che sono pesanti sia per appoggiarle su un materiale metallico un telaio di una finestra di ferro una roba del genere un armadio una caldaia qualsiasi cosa e quindi sono sono pratici grazie a tutti per la visione vi ricordo di iscrivervi a questo canale e anche all'altro niconisti quello vero questo qui è il canale extra